Sabato 30 marzo alle 20 e 30 scocca l'ora della Terra, l'ora di spegnere le luci in tutto il mondo e guardare le stelle. A Teramo, grazie all'Osservatorio Astronomico di Collurania, centro di eccellenza in Europa, sarà possibile esplorare il cielo con telescopi giganteschi e il tutto in Piazza Martiri, a disposizione della cittadinanza, un'opportunità da non perdere. L'Osservatorio Collurania di Teramo scende in piazza per far vedere a tutti quanti le stelle. Beh certo, cogliamo l'occasione dello spegnimento delle luci dell'ora della Terra in cui verranno spente le luci, in realtà più che un'ora sono due ore, dalle 8 e mezza alle 10 e mezza di sera saremo a Piazza Martiri con un telescopio con cui potremmo far vedere le stelle a tutti quelli che verranno. L'Osservatorio di Collurania che ruolo svolge qui in città? Beh sicuramente la presenza di una delle istituzioni internazionali più grandi per il semplice fatto che noi facciamo parte dell'Istituto Nazionale dell'Astrofisica siamo all'interno del MIUR, del Ministero della Ricerca e ovviamente noi abbiamo tante collaborazioni internazionali che portano appunto nel nome della città di Teramo in tutte queste collaborazioni in giro per il mondo. Insomma durante queste due ore di buio cosa si potrà vedere in particolare? Beh potremmo far vedere delle stelle che di sicuro al telescopio sono degli oggetti che si possono vedere al telescopio che ad occhio nudo non si possono vedere e sono carini da poter mostrare e da poter spiegare che cosa c'è sopra la nostra testa che magari non è visibile ad occhio nudo.